Il marketing B2B è diverso dal marketing B2C? Intanto andiamo un attimo a spiegare B2B, B2C, queste parole che cosa significa. Marketing B2B è uguale al marketing che un'impresa fa nei confronti di un'altra impresa, business to business. Il marketing B2C è invece il marketing che un'impresa fa nei confronti del consumatore finale. Noi per definizione il consumatore finale, il privato, lo chiamiamo anche la signora Maria. Il marketing ha delle regole che sono uguali nel B2B e nel B2C. Il marketing si basa su principi psicologici di acquisto che sono quelli, sono i medesimi, anche perché un'impresa fa il marketing nei confronti di un'altra impresa ma alla fine chi dialoga sono le persone. Quindi ci sarà qualcuno dell'impresa A che vende qualcosa a qualcun altro dell'impresa B. Quindi alla fine sono le persone che si confrontano e che sostanzialmente dialogano fino ad arrivare alla vendita, alla comunicazione, eccetera. Quindi è ovvio che potremmo dare due risposte anche completamente diverse alla domanda ma il marketing B2B è uguale al marketing B2C per certi aspetti è identico. Cioè se prendo i principi fondanti del marketing, problemi desideri, posizionamento differenziante, ci sono delle regole sacre, soprattutto nel contesto del marketing strategico, che sostanzialmente devono essere rispettate sia che io faccia marketing B2B sia che io faccia marketing B2C. Quindi potrei risponderti sì, il marketing è esattamente uguale nel B2B e nel B2C, potrei risponderti che ci sono delle differenze enormi tra B2B e B2C, perché non serve essere guru del marketing o scienziati della comunicazione per capire che vendere un golfino, un capo di abbigliamento da 150 euro probabilmente sarà un po' diverso da vendere un macchinario industriale da 250.000 euro. Ci sono un sacco di differenze. La prima è il valore dell'oggetto di vendita, la seconda sono i tempi di vendita. È ovvio che la vendita di un golfino è una vendita totalmente emozionale. Passi davanti alla finestra, alla vetrina di un negozio, vedi un golfino, ti piace, costa 150 euro, li hai, li puoi spendere, compri subito. È una vendita di impulso, è una vendita che si basa sull'emozione. Il macchinario industriale da 250.000 euro ha un ciclo di vendita che dura mesi, potrebbe durare un anno e coinvolge molte persone nell'impresa che acquista. Quindi, a seconda della considerazione che andiamo a fare, dobbiamo essere attenti perché ci possono essere differenze enormi tra B2B e B2C oppure anche delle nette analogie, ok? Il consiglio che voglio dare, perché ovviamente noi siamo specialisti del B2B, ci occupiamo del marketing B2B, ma abbiamo molti clienti con i quali facciamo il doppio livello di marketing. In che senso? Un'impresa che, faccio un esempio, produce finestre, produce serramenti, ha un target B2B se il suo serramento lo vende alla rivendita. Però fa anche un marketing al consumatore finale, fa anche marketing alla signora Maria, quindi un marketing B2C, per aiutare la rivendita stessa, il suo cliente del B2B. Quindi, ovviamente, le leve del marketing le conosciamo perfettamente, le applichiamo sia al mondo del B2B che al mondo del B2C. Però noi, sostanzialmente, siamo specialisti del marketing B2B. E' chiaro che voglio dare un messaggio a tutti quegli imprenditori e manager che operano in mercati B2B, attenzionandoli al fatto che ci sono delle differenze tra vendere al business e vendere al consumer. E voglio attenzionarli al fatto che moltissimi interlocutori, moltissimi marketer, moltissimi professionisti fanno spesso, non dico sempre, noi siamo l'esempio di quelli che fanno solo B2B, fanno molto spesso solo marketing al consumer. Attenzione, quindi, che se tu hai un consulente, un partner, un'agenzia, che di mestiere ha sempre fatto marketing al consumer e lavora nella stessa identica maniera, applicando, diciamo così, la sua esperienza al mondo business, beh, sii lì che tu potresti avere assolutamente dei problemi. Gli approcci psicologici alla vendita B2B sono completamente diversi da quelli di un consumer. Il convincere un gruppo di acquisto a comprare il mio prodotto che costa 200.000 euro è faccenda estremamente complessa, articolata, basata su più livelli. Devo vendere non a una persona, ma a tre, a quattro, di volta in volta. Se devo produrre del materiale di marketing per il B2B, avrà certamente dei requisiti, delle caratteristiche, avrà degli elementi che lo distinguono nettamente dal materiale prodotto per dialogare con Signora Maria. Quindi, in questo senso, in questo video, io voglio portare la tua attenzione al fatto che ci sono delle profonde differenze. Se guardiamo a 360 gradi il marketing, soprattutto poi quello operativo, la comunicazione di un'impresa B2B rispetto a un'azienda che fa marketing al consumatore finale. Quindi, dobbiamo fare attenzione perché riscontriamo spesso imprese che hanno un approccio di marketing e di vendita nel B2B, perché operano i mercati B2B, come se vendessero a Signora Maria. Ma non è così. Ecco, se il tema comunque ti coinvolge, ti appassiona e vedi che la tua impresa magari sta relazionando il mondo business in una determinata maniera, ma non ottiene ciò che vorrebbe a determinate difficoltà, sappi che noi offriamo una consulenza gratuita per poter dialogare con il cliente, per poter sapere cosa dice la nostra esperienza su una determinata situazione e in maniera totalmente gratuita puoi avere un audit che in output ti dà la nostra visione della tua situazione. Chiudo parentesi e torno a differenze tra B2B e B2C. Un'altra grande differenza sta nei tempi di sviluppo della vendita. La vendita al consumer è una vendita molto veloce, la vendita all'impresa è una vendita che può essere molto lenta. Quindi anche a livello di marketing operativo devo avere nel mio piano, nel mio programma, tutta una serie di leve, tutta una serie di attività che vanno nella direzione di stare sotto al cliente potenziale, scansionare continuamente il mercato di clienti che potrebbero essere clienti che diventano attivi da potenziali e devo avere tutta una serie di attività continue, costanti, parlo soprattutto del grande mondo del marketing dei contenuti, le newsletter, i webinar, i magazine. Tu devi continuare a coltivare nel tempo il rapporto con i tuoi clienti affinché quando loro sono pronti per acquistare tu con la tua impresa possa essere lì. In realtà oggi moltissime imprese, soprattutto le PMI, lavorano dando delega 100% ai loro venditori, i loro commerciali, sono loro che devono star sotto i clienti, sono loro che devono inseguire i clienti nel tempo, sono loro che devono fare un po' tutta l'attività, c'è poco marketing e questo crea in realtà dei problemi. Quindi dobbiamo ragionare che se dobbiamo fare il marketing per un'impresa B2B, dobbiamo essere consapevoli che il ciclo di vendita è decisamente più lungo. E poi ovviamente questo dipende anche da che cosa vendi, perché ripeto un tema è il macchinario industriale da 200.000 euro e un altro tema è vendita di materiale di cancelleria per le imprese. Quindi nel merito, anche dentro il contesto del B2B, bisogna vedere poi la tua impresa, il mestiere che fai, quali sono i tuoi clienti, quali sono i tempi, le modalità per settare al meglio le tue attività di marketing. Ma in sostanza, concludendo, mi interessa che se operi nel mondo del B2B tu sia consapevole che il marketing che devi fare è un marketing specifico, è un marketing particolare che pesca certamente, è marketing e quindi pesca certamente dalle regole sacre del marketing, quindi anche quelle che si applicano nel mondo consumer. Ma poi nell'operatività, il piano di marketing operativo di un'azienda B2B ha tutta una serie di leve, tutta una serie di attività, tutta una serie di azioni che sono profondamente diverse rispetto a quello che faremmo se dovessimo vendere a signora Maria. Quindi verifica che la tua impresa sia un'impresa che sia consapevole di quali sono le attività da fare nei confronti del mercato, nei confronti del cliente, sia consapevole come debba gestire le varie situazioni, fase per fase, in cui si trova il cliente potenziale e si muova di conseguenza. Quindi crei gli strumenti, le attività, i touch point con i clienti messi nei momenti giusti in maniera tale che sia organizzata, in maniera tale che sia perfettamente presente, diciamo così, e consapevole di come funziona un po' questo processo. Allora, anche se sei una piccola e media impresa, avere questo tipo di consapevolezza che scateni poi dopo un'operatività così organizzata, che si sappia muovere bene nel contesto del B2B, è ciò che deve essere un obiettivo da raggiungere. Anche perché oggi, se non siamo bene organizzati, se non abbiamo un marketing che funziona bene per le vendite, diventa tutto estremamente più difficile, estremamente più complesso. Se questo video ti è piaciuto, commentalo, condividilo, iscriviti al canale della nostra agenzia e, come ti ho detto, nella descrizione del video trovi un link dove, se vuoi, puoi richiedere, a titolo assolutamente gratuito e senza impegno, una consulenza per saperne di più su cosa possa fare il marketing per la tua impresa. Buon marketing!